Mi piace leggere oggi, 20 novembre 2023. Bene, ho tra le mani questo buscolo, questa rivista, molto interessante. Casa sollievo della sofferenza, numero 9 e 10, anno 7 maggio 1956. Guardate, adesso vi faccio vedere, scientificamente, vediamo un po', ho un po' cominciato nella vettura, guardate, molto interessante, è appena aperto, vecchie fotografie, però questa qui è storia, guardate. Beh, ho molto tempo per leggere, non ci sono problemi, anzi ne ho moltissimi. Sono sveglia dalle due di questa notte, adesso sono quasi le sette. Vabbè, buongiorno a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.